Questa action cam costa 44 euro e registra in 4K, ma funziona bene? Ciao, sto cercando la migliore action cam economica del 2024. Ne ho comprato un po', che se non mi cadono e si rompono riusciremo a vedere le prove. Porca putt... per fortuna ce l'ho già provata. A posto. Vabbè, se non faccio più danni, sono qua... Ok, microfono, va, sì. Questa qua mi piaceva perché è piccolina e la puoi montare sul casco, e in alcune condizioni avere un action cam così piccolo è comoda. E in alcune condizioni particolarmente favorevoli di illuminazione e contrasto, con soggetti statici e senza vibrazioni, le immagini vengono registrate anche abbastanza bene. Certo, si nota un po' di effetto pink cushion, ma è una action cam, è normale quando monti una lente wide angle. Ma anche durante queste prime registrazioni ho iniziato a notare un difetto. Quando portavo davanti all'action cam il chuck digitale e poi lo toglievo velocemente, l'adattamento alla mutata luminosità avveniva in maniera brusca, a scatti. A onor del vero, se è un difetto che non deve esistere su action cam di marca, su quelle più economiche è atteso ogni tanto si nota. Analizziamo la qualifica delle clip registrate e avremo una brutta sorpresa. I video non sono 4K 60, ma sempre 4K 30 frame al secondo. La cosa strana è che il menu ci permette di impostare 4K 60, quale massima risoluzione e frame rate. Questo aspetto mi ha lasciato talmente tanto perplesso che ho mandato un'email al costruttore. Vi farò sapere quando avrò una risposta. Altri formati impostabili per le registrazioni video sono 4K 30, 2,7K, 1080p e anche 720, per lo slow motion che vedremo fra poco, e che arriva fino a 120 frame al secondo. Il 2,7 si ferma a 30 e il 1080p a 60, questa volta effettivi. Un altro aspetto da notare è che il bitrate è sempre molto basso, perché varia fra 18 e 26 megabit al secondo. Questo potrebbe anche essere visto come un lato positivo, nel senso che una scheda microSD da 32 GB ci basterà per quasi 4 ore di registrazione. Considerando che le schedine su Amazon si trovano anche di marca a 6 euro, con 50 euro avremmo comprato un Action Cam 4K e una schedina da 4 ore di registrazione. Ah, i link alle schedine microSD economiche, ma secondo le mie prove affidabili, sono in descrizione. Ci sono alcuni aspetti che trovo veramente stupidi, perché bastava un poco più di attenzione nella progettazione, come il fatto che il riferimento sullo sportellino ci fa inserire la memory card dal lato sbagliato. Io inoltre a mani nude faccio molta fatica a togliere lo sportellino per cambiare la memory card o accedere alla porta di ricarica. Qui per esempio ero vicino al laghetto del parco delle cave ed il rischiavo di non riuscire a registrare. Ma questo è giustificabile dal fatto che è davvero impermeabile. Ne parliamo dopo. Le difficoltà pratiche non finiscono qui, perché anche togliere la memory card per me è quasi una mission impossible, senza usare una pinzetta, che non è proprio il massimo della comodità. Per non parlare poi di avere i due bottoni di power e registrazione così vicini e così simili uno con l'altro, che se non li guardi, non sai cosa stai premendo. Rischi che invece di aver avviato la registrazione... Hai spento l'action cam. In proporzione alle performance generali, la resa low light è buona. Siamo di sera, guardate questa clip qui registrata con la Insta360 Go 3. Ho registrato con l'iPhone 12, che ovviamente come sensore, ma soprattutto come sistema operativo e ottimizzazioni software, è molto superiore. E per confronto con un'altra action cam, ho usato la Caso V50 Elite, che si propone come serio contendente al trono di migliore action cam economica 2024. La Cerastus V8 Mini 4K, anche considerando la sensibilità EV che era impostata a meno 2, e dopo capiremo perché, non fa una così brutta figura. Cosa per me incredibile è che è davvero impermeabile senza custodia. Per carità io l'ho messa per pochi centimetri nel laghetto del parco delle cave. Però ha registrato anche sott'acqua e dopo, quando è uscita, non ha mostrato nessuna difficoltà nel continuare a registrare correttamente. Sempre per parlare di stupore in relazione al prezzo contenuto, ho apprezzato lo slow motion, che qua ho fatto partire per sbaglio perché, non avendo il touchscreen, una breve pressione del tasto power fa cambiare la modalità di registrazione. Per carità ha una risoluzione di 1280x720, però è comunque uno slow motion di 4 volte. E tornando alla resa low light, anche questa registrazione dentro al garage, beh, mi ha stupito in positivo. Sì, siamo di giorno, ma qua siamo al piano interrato, quindi ci sono solo le luci al neon, e la clip è comunque luminosa. E qui, se aspettate un attimo, noterete invece che l'antivento sul microfono non esiste. Basta andare a 10 km all'ora per avere un audio inutilizzabile. Ma dopo faremo una prova audio completa. Parliamo invece di resa video, e notiamo che quando andiamo fuori con la luce del giorno, si vede più chiaramente, ma si notano, oltre a una eccessiva saturazione, va bene rendere i colori vivaci, ma così dà quasi fastidio, anche una cattiva gestione della luminosità, perché schiarisce talmente tanto il cielo che non ci sono più dettagli. In questo cielo, per esempio, voi vedete qualche nuvola? Per questo, allora, è meglio impostare la sensibilità luminosa almeno a meno 1, ma anche a meno 2, cosa che renderà l'immagine un pochino più scura, ma almeno brucerà un po' meno le alte luci. E notate che qua iniziamo a vedere che nel cielo c'erano anche delle nuvole. Se proviamo a impostare la sensibilità a meno 3, il cielo non si brucia quasi mai. E guardate che belle nuvole. Ma l'immagine diventa un po' troppo scura. E comunque anche a meno 3, nel garage interrato con poca luce, si vede ancora abbastanza bene. Incredibile, veramente. Dalle clip registrate in moto, ho notato che non sembravano stabilizzate, così ho voluto fare una prova con la bicicletta, perché ho pensato, essendo montata sul casco, magari io muovevo troppo la testa, e così le immagini ne soffrivano. Magari montata sul manubrio della bicicletta, soffre meno le vibrazioni? Ma, in realtà, mi è perso subito che anche questo tipo di vibrazione non venisse compensato. Ho provato anche su una strada asfaltata, ed è andata solo un po' meglio. L'unica accessione in cui non ha sofferto troppo le vibrazioni, è stato quando spingevo la bicicletta a mano. Vi faccio vedere il confronto diretto con la casa V50 Elite, e direi che non ci sono paragoni. E a questo punto mi sono convinto che il problema fosse la stabilizzazione delle vibrazioni. E per fare un test scientifico, io uso la mia macchina vibrante. La mia macchina ha velocità impostabili, e io uso questo tipo di macchinario perché in tutte le prove che vedete voi sapete che la velocità 3 è sempre la velocità 3. Quindi potete fare i confronti diretti fra tutte le action cam che io provo. Questa prova con la macchina, purtroppo, ci mostra che questa camera non è che compensa poco le vibrazioni. Proprio non ha nessun sistema per compensare le vibrazioni. Cioè, neanche alla velocità 1 le immagini sono stabili. 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 18 19 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 4k vediamo altre due caratteristiche e poi arriviamo alla conclusione lo schermo è discretamente visibile tant'è che qua lo vedete a confronto con lo schermo dell'iphone 12 al massimo della luminosità ed è chiaro che è inferiore ma ribadisco è uno schermo d'iphone 12 e i colori dello schermo sono veramente molto falsati la registrazione non verrà così falsata nei colori ma comunque da veramente fastidio questo viola è diventato un blu l'altoparlante ha una potenza notevole e contestualizzata in una action cam impermeabile senza custodia madonna che potenza ha dell'incredibile ma se io metto volume low io neanche una gopro l'ho mai sentita così potente e anche impostando volume al minimo risulta ancora veramente potente l'ho già accennato prima ma penso vada detto chiaramente questa action cam non ha il touch screen a cui ormai siamo tutti abituati potente in realtà il menu è abbastanza ben strutturato e con i vari pulsanti si naviga bene qualcuno potrebbe quasi preferirlo e sarebbe bello che con un audio così potente out anche l'audio in registrato fosse di buona qualità prova uno a distanza di braccio prova uno a 70 centimetri prova a un metro prova audio a un metro c'è un po di vento prova audio a circa due metri prova audio a circa 3 metri prova audio a 3 metri prova audio a 4 4 4 metri prova audio a 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 5 metri 5 metri con la voce impostata con la voce in modo che si senta però si parla con una voce più bassa probabilmente non si sente di niente sono circa due metri con una voce non impostata e non credo si senta più nulla se invece uso una voce alta probabilmente si sente e sono sicuro di non essere di fronte alla migliore action cam economica del 2024 perché come action cam che non compensa neanche le vibrazioni cioè prendete lo smartphone e fate meglio in più la qualità d'immagine è pessima ha un eccessivo contrasto un'eccessiva saturazione un white bounce che è ballerino che si aggiunge al fatto che i colori non sono naturali l'audio è scarso registrato se vogliamo vedere i lati positivi l'audio out quindi l'altro parlantino è potentissimo lo schermo si vede alla luce del sole abbastanza per la fascia di prezzo quello è notevole così come l'ha resa lo light è molto piccolo e usata sul casco potrebbe funzionare bene condizioni al limite proprio perché sul casco o sul maniubrio della bici avete dei movimenti e non tanto le vibrazioni è waterproof a 10 metri quindi alcune piccole caratteristiche positive però veramente uccise da una qualità d'immagine a mio avviso pessima e ne abbiamo provate altre e sono sicuro che queste andranno tutte molto meglio questa era la migliore dell'anno scorso ma queste sono quelle di quest'anno e abbiamo già iniziato a vedere la caso v50 lit che è un buon contendente nella prossima prova però voglio fare un test scientifico e provarla in tutte le condizioni vedere se è davvero sempre buona come action cam economica grazie a tutti